la via della conoscenza attraverso attilio m vocedella quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com una voce oggi iniziamo a parlare dell'argomento che ci avete richiesto di approfondire che abbiamo chiamato la mente diventa un marchi ingegno iniziamo dalle premesse quando si parla della mente definita come marchi ingegno si delimita il campo dei possibili modi di rappresentarla nel discorso che porteremo avanti insieme lo faremo in base ad una metafora ma prima domandiamoci perché nella via interiore la mente assume un ruolo centrale partiamo dal definire qual è la caratteristica della forma uomo che lo pone in una posizione diversa dagli altri esseri lui registra ciò che accade attorno a sé e dentro di sé e lo fa in termini consapevoli mentre gli altri esseri sono caratterizzati da un'istintività nel registrare ciò che accade pensateci anche la roccia può modificare se stessa in base a varie situazioni ad esempio climatiche in quanto ogni essere inserito in un particolare contesto che produce in lui delle sollecitazioni ma la roccia lo fa in modo non volontario e quindi riceve sollecitazioni e produce mutamenti in modo non consapevole a questo punto domandiamoci qual è la specificità dell'uomo attraverso la quale entra in contatto con il mondo esterno ed anche con il mondo interno a lui partecipante e il pensiero consapevole una voce l'uomo è dotato di autoconsapevolezza cioè del pensiero che riflette su se stesso non si tratta soltanto di pensare ma di un pensiero che riflettendo su di sé fa percepire all'uomo se stesso ciò che gli sta attorno e la relazione fra ciò che sta attorno a sé ed in sé tutto questo attraverso l'attività intellettiva sia razionale che intuitiva e deduttiva l'uomo è in grado di riconoscere se stesso ciò che è distinto da sé e ciò che lui opera e questo lo fa sapendo di farlo mentre per l'animale il riconoscimento fa parte dell'istintualità l'uomo è quindi in grado di riconoscere di descrivere le proprie emozioni e spesse volte anche quelle dell'altro in relazione con lui come ogni essere è parte della struttura profonda di interrelazioni che è la base della vita attenzione stiamo solo parlando della facoltà specifica della forma uomo e non di come poi ognuno ne faccia uso la forma uomo non solo vive ma lo fa riconoscendo attraverso l'intelletto il proprio essere nel mondo e quindi sa riflettere sui propri comportamenti e su quelli dell'altro da sé al quale è in grado di attribuire proprietà di pensieri di emozioni e di significati espressivi quindi l'uomo ha una specificità che presenta una ricchezza di possibilità di sviluppo legata al riconoscersi nel mondo a riconoscere il mondo e intorno e saper articolare la propria capacità riflessiva inoltre l'uomo vive consapevolmente anche la propria sensorialità riconoscendo sollecitazioni che ne stimolano l'odorato o il gusto oppure il tatto e può anche comporli insieme c'è un'altra specificità umana con la quale tutti voi fate i conti nel quotidiano ed è la memoria che è strettamente connessa al passato dove si crea un magazzino di ricordi per il momento non stiamo parlando della pesantezza della staticità e della ripetitività attraverso la quale vivete il presente sulla base delle interpretazioni contenute nel magazzino del passato ma parliamo della vostra riflessività legata all'atto di memorizzare anche in questo caso non affrontiamo il come e il che cosa memorizzate e nemmeno il vostro processo di memorizzare che nel corso degli anni si trova progressivamente asservito alla strutturazione che operate nella mente della vostra riflessività legata che nel corso di 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 corso grazie a tutti